Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con la nostra rassegna stampa. Mattino 6 inizia come sempre dalle prime pagine regionali andiamo a vedere dunque il centro che già osservate alle mie spalle e nell'edizione di Pescara il titolo di apertura e tariffe bus sconti per gli studenti. Tua blocca i prezzi e intensifica i controlli contro chi non paga. Andiamo a vedere poi l'altra notizia di giornata la sicurezza in a 24 da 25 il ministero ammette nessun controllo da anni sui viadotti e poi Molise con la Puglia, l'Abruzzo perde l'alleato per la ZES tutto da rifare ancora pronto l'elenco agricoltura finanziate 116 aziende abruzzesi. Scendiamo adesso nel taglio centrale del giornale per quanto riguarda i carabinieri. Ieri c'è stata la cerimonia di avvicendamento alla legione Abruzzo e Molise, l'intervista il generale Sirimarco dice lascio una regione che sa difendersi. Poi andiamo a vedere lo spazio delle cronache. Pescara finanza nei BNB incassi in nero e 20 denunce. Ben 350 mila euro di incassi in nero è quanto ha scoperto la finanza al termine di una serie di controlli tra i proprietari di case private. I titolari di bed and breakfast 20 come detto le denunce. Ancora da Pescara tentata rapina a un senza tetto al terminal bus e ancora città Sant'Angelo l'arcivescofo difende la scuola delle suore. Ancora notizie di cronaca da Montesilvano chiuso l'autolavaggio perché inquina dietro un esposto dei cittadini contro i rumori e le acque reflue arrivano i sigilli. A centropagina la fotonotizia a Pescara una due giorni di sfide per la regata del gonfalone. Scendiamo nel taglio basso andiamo a vedere anche il buongiorno abruzzo di Giuliano Di Tanna che bella l'estate meno male che è finita. Questo è il titolo della riflessione odierna. Restiamo sempre al quotidiano il centro. Andiamo a vedere le altre edizioni partendo da quella tiatina. Titolo di apertura troppi debiti no ai lavori del ponte Chieti. Stangata di Equitalia sul consorzio industriale zero fondi per la sicurezza. Le altre notizie partendo dalle cronache ad Atessa strada a pezzi operai pronti alla denuncia. Strada provinciale 119 a pezzi. Gli operai che tutti i giorni si spostano per raggiungere i posti di lavoro in Val di Sangro annunciano denunce pur di veder riparata la carreggiata. A Lanciano altra voragine in centro via ai controlli per quanto riguarda il sottosuolo della città frentana e poi a Chieti piscina i privati parte il piano per fare cassa. Le altre notizie. Il cimitero di Vasto si torna sull'inchiesta in due. Tornano agli arresti tangenti. Gli indagati vanno al Camposanto. Gli inquirenti sospettano un inquinamento delle prove. A centropagina andiamo a Chieti Scalo e il consigliere operaio ripulisce e aggiusta la fontana. il consigliere Marco Di Paola al lavoro proprio lo vedete in questa fotografia nella fontana di Piazzale Marconi a Chieti Scalo. Andiamo nella edizione Teramana adesso. Il titolo di apertura Raid Antilega ripreso in un video. Giulia Nova si indaga sugli autori del gesto la condanna dei partiti. Poi nelle cronache andiamo a vedere meglio. Ingrandiamo la pagina. Comune dossier sui lavori nelle scuole. Interventi è l'istituto Forti che anche quest'anno deve ospitare gli alunni della scuola Fornacicona. In attesa della prima campanella oggi riaprono gli asili nido. Sanità di Egidio. Ecco perché ho lasciato il Mazzini per quanto riguarda la sanità Teramana e poi a Pineto spiaggia Nord invasa dalle pietre. Sempre nel taglio centrale. Altra notizia. Fa le vacanze a scrocco e viene denunciato. Turista montoriese trascorre dieci giorni in un camping di Alba senza pagare. A centropagina nella fotonotizia si esibisce l'orchestra Centosellos Teramo. Oggi l'invasione festosa dei violoncelli. Andiamo a vedere anche l'edizione aquilana del centro. In apertura liceo Spezzatino. Lezioni in cinque sedi. L'Aquila e il piano della provincia per assegnare 51 aule al Cotugno. E poi ancora nelle cronache Avezzano. Fontana simbolo ricorda il sisma di 103 anni fa. Il 6 settembre alle 18 la Fontana in una nuova veste di piazza risorgimento torna nella fruibilità degli avezzanesi. Il taglio del nastro arriverà con un paio di giorni di anticipo sulla tabella di marcia. E poi il sindaco di Sulmona. Casini torna in sella e allarga le alleanze dopo le dimissioni. E poi ancora calcio. Categorie contese. La Figgicigela. L'Aquila posto solo in prima categoria. Torniamo ad Avezzano con la cronaca. Malora in auto si accascia e muore. Il dramma si consuma in piazza Castello davanti a una folla di passanti. A centropagine invece il jazz e quindi gli spettacoli. Domani la maratona musicale nelle piazze con Molinari e altre centinaia di artisti. Andiamo a vedere adesso cambiando testata la prima pagina del messaggero dell'inserto Abruzzo del messaggero. In apertura autostrade senza controlli. Il Ministero dei Trasporti dice personale, poco personale, degrado non verificato. Siamo preoccupati. Il gruppo Toto risponde. Nessun pericolo immediato su A24 e A25 ma criticità in caso di sisma. Fra poco vedremo che questa notizia avrà avuto spazio anche su alcuni quotidiani nazionali. E poi andiamo avanti. Completiamo dunque la lettura delle prime pagine regionali. Lanciano si apre un'altra voragine in strada dopo i problemi sul corso. Di spalla troviamo invece il problema della ZES. L'Abruzzo beffato e il Molise va con la Puglia. Il caso sellevato dal centrodestra in una conferenza stampa tenuta ieri a Pescara. Andiamo a centropagina ora. Vacanze in nero. La finanza scopre il business. Nei guai i proprietari di casa e bed and breakfast. A fine soggiorno non rilasciavano le ricevute. Troviamo nella fotonotizia l'Aquila che diventa capitale del jazz. L'occasione sede stabile del festival. Domani il via alla musica. Nel taglio basso, la notizia che abbiamo già visto anche in precedenza, sul Mona. Il sindaco Casini ritira le dimissioni. Ieri in mezz'ora di discorsi in aula ha spiegato i motivi del suo ripensamento. Andiamo nel taglio alto. La sfida domani la regata dei gonfaloni, equipaggi da tutta Italia a Pescara e poi rugby. Colpo grosso dell'Avezzano preso Cerasoli già dell'Aquila e il calcio. Pescara la sfida degli ex. Proietti passa al Teramo, Pillon, Fiorillo e la strana gara di Bruno coniugato con la figlia di Sebastiani. Biancorossi ingaggiano l'ex Delfino, Lanciano voglia di ripartire tra le grandi. Questo è il sunto dello sport in questo inizio di stagione. Andiamo a vedere anche la città. Completiamo così la lettura delle prime pagine abruzzesi. Ponti, controlli impossibili in A24, la resa tra virgolette dello Stato in una risposta del Ministero dei Trasporti agli ambientalisti abruzzesi. Nel taglio alto bar, tabaccherie e sale slot nel Milino arrestato il capo della banda delle spaccate. Adesso scendiamo nel taglio centrale. Andiamo a Giulianova. Indagini avviate sul blitz al gazebo della Lega e poi ancora Silvi. Traffico grana numero uno per il neosindaco Scordella. Di spalla provincia scaggionata, negò nel Tordino ma fece tutto da solo e poi Leandro Bracco, sei mesi di ritardo sul ponte del Vomano. A centropagina nella fotografia stasera il grande evento al Duomo con Melozzi, la carica dei cento sellos. E poi troviamo anche, restando sempre alle notizie di cronaca, gli ZS in prima linea, Frebbe del Nilo, Gazze, Cornacchie, Asini e Cavalli, primi vettori dell'infezione. Per quanto riguarda il calcio, Teramo Calcio, Ecoproietti e Pacini, colpi del DS Federico alla scadenza del calciomercato che si è chiuso ieri sera. Adesso, come detto, apriamo lo spazio dedicato ai titoli nazionali. Partiamo dal Corriere della stasera in apertura a mercati un avviso all'Italia sullo spread Fitch, l'agenzia di rating, conferma le problematiche che si stanno verificando in questi giorni sullo spread. Per quanto riguarda il tema spread c'è, diciamo, la problematica a riguardo dei conti dell'Italia e le preoccupazioni sulla tenuta degli stessi, anche se il ministro Tria dalla Cina ha rassicurato sull'operato del governo per tenere in ordine i conti. Comunque proseguiamo la lettura per l'agenzia prospettive negative, l'Italia conserva la tripla B ma scende l'outlook che appunto da stabile diventa negativo. Giorgetti invece sul partito, la Lega potrebbe sparire, questo per quanto riguarda il sequestro dei conti del partito. Sul Corriere della sera l'editoriale firmato da Angelo pane bianco, noi e l'Occidente, i pericoli del legame con Mosca. Una riflessione sul filo rosso che collega Vladimir Putin al governo giallo-verde. Nell'articolo appunto si analizza come potrebbe essere una svolta al contrario rispetto al 18 aprile del 48 quando l'Italia scelse di stare con l'asse occidentale. Andiamo adesso a vedere le altre notizie. Nella fotografia la mostra di Venezia, applausi da critici e pubblico per la canto attrice statunitense, Lady Gaga attrice e rinata una stella. E poi salute, 14 milioni resteranno senza medico perché in dieci anni perderemo 47 mila dottori. Andiamo adesso su Repubblica, anche qui l'apertura è sullo spread, sul rating dell'Italia, Fitch Italia scenario negativo, lo spread vola a quota 290, l'agenzia contrasti nel governo, rischio elezioni anticipate. Giorgetti dice giusto sforare il 3% a riguardo soprattutto degli investimenti nella sicurezza sulla viabilità. E poi l'inchiesta, Salvini ovunque, non al Viminale, 60 feste e comizi per quanto riguarda il ministro degli interni. Nel taglio basso il dibattito sulla leadership nel partito democratico, il PD torna in piazza e i renziani sfidano Zingaretti, sbaglia a contestare Macron. Andiamo sul fatto quotidiano e qui in apertura troviamo il caso dei viadotti abruzzesi, resa del ministero quattro giorni fa, la risposta alla segnalazione esposto sulla 24, il titolo. La Roma-L'Aquila è insicura ma per i controlli, zero soldi. A proposito, noi possiamo andare a vedere il servizio proprio sulla conferenza stampa tenuta ieri dalle associazioni ambientaliste. Vediamo. Ingegnere, qual è la situazione alla luce anche dei controlli che voi avete fatto lungo la rete autostradale? Noi abbiamo fatto dei controlli visivi e l'abbiamo filmati e fotografati e l'abbiamo messi in un esposto che abbiamo presentato alla Procura della Repubblica. La situazione è notevolmente grave, nel senso che ci sono problemi di deterioramento soprattutto dei ponti che sono problemi seri, molto seri e che preludono a incidenti prossimi venturi. A questo punto abbiamo dovuto esporre, per ragione ovviamente di tutela anche nostra, abbiamo dovuto esporre la questione alle procure perché ci sia un'inchiesta da questo punto di vista. La criticità che noi avevamo segnalato, cioè il degrado dei viadotti, effettivamente esiste e hanno bisogno di interventi, cioè bisogno di interventi urgenti, di manutenzione ordinaria, già dire urgenti come la manutenzione ordinaria è anche straordinaria e che qualora il governo prendendo via il personale loro opereranno. Solo in quel caso è una situazione veramente inaccettabile anche perché nel frattempo noi abbiamo pagato molti soldi con i petaggi. La società, la strada dei parchi sostiene di aver fatto interventi per circa 200 milioni di euro solo come manutenzione ordinaria, però comunque i viadotti sono in quel degrado, lo stesso Ministero riconosce che ci sono criticità, beh insomma vorremmo anche capire meglio come sono stati spesi questi soldi, insomma poi magari tutto a posto, però le verifiche è meglio farle. Molto grave se pensate per esempio che lo Stato deve garantire per esempio i soccorsi in caso di calamità naturale, pensiamo al terremoto, vi ricordate all'Aquila c'erano problemi per far arrivare i soccorsi perché i ponti non erano sicuri, andavano verificati. Oggi i ponti crollano a prescindere del terremoto, questo è molto grave, lo Stato non si può arrendere così e non possiamo permettere che i cittadini viaggiano senza sicurezza. Oggi mettersi sull'autostrada c'è un po' di psicosi ma in realtà sono fondate e la psicosi è fondata perché li vedete tutti quanti, la situazione è abbastanza grave. Andiamo avanti con la nostra rassegna sulla stampa, restando quindi ai quotidiani nazionali, noi imprenditori veneti in piazza con i dipendenti contro questo governo e questo è il titolo della stampa Fitch rating del debito confermato AAAB Outlook negativo però possibile voto anticipato da Zoppa, Sadassi Industria offensivo chiamarci prenditori, ora basta andiamo avanti e vediamo anche questa notizia che riguarda invece sempre la viabilità, l'esecutivo ci ripensa niente nazionalizzazione ma concessioni più brevi per le autostrade, questo sul dibattito appunto sulle concessioni statali. Poi il sole 24 ore, andiamo a vedere anche come titola il principale quotidiano economico e finanziario italiano, spread sotto pressione, Fitch rating invariato ma prospettive negative, politica e mercati differenziale per i BTP italiani a 10 anni sui Bund tedeschi a 291, rialzi anche su 2,5 anni leghe 5 stelle in pressing, deficit 2019 all'1,8% del PIL, il MEF, il Ministero dell'Economia e della Finanza per quota 1,5-1,6 Giorgetti oltre il 3% solo se necessario per mettere in sicurezza le infrastrutture come vi ho detto in precedenza. Poi a centropagina nella fotografia Mountain View avrebbe acquistato i dati dei pagamenti offline, scoppia il caso Google Mastercard accordo segreto per tracciare i clienti. Andiamo a vedere il manifesto adesso, il titolo del quotidiano comunista, la tarantella sulla foto di Luigi Di Maio, ancora nessuna certezza su ILVA, il Ministro non scioglie il nodo annullamento della gara. I sindacati e anche l'USB proclamano lo sciopero per l'11 settembre e poche ore dopo arriva la convocazione del Mise per martedì. Il Vescovo di Taranto accusa, situazione drammatica. E poi Giorgetti, possibile lo sforamento del 3% al tolà di Bruxelles, vola lo spread, manovra, il Governo balla sul tetto. Andiamo su avvenire, anche qui il titolo e sull'economia, i conti traballano, il Governo si divide da Fitch primo avviso, presto confronto con l'Unione Europea. Il fatto, i mercati sempre più nervosi, lo spread sale a 2,90 dopo il dato del PIL infrenata, sul deficit Giorgetti spinge per il 3%, Tria è contrario, Tria è il Ministro dell'Economia. Andiamo poi a vedere un'altra notizia, Bruxelles basta alternanza, presto un'unica regola, caso europeo sull'ora legale, si cambierà. Il messaggero, apertura, previsioni negative, sale lo spread, l'agenzia Fitch conferma il rating dell'Italia, ma l'orizzonte passa da stabile a problematico, l'Italia rallenta, il differenziale con i Bund va a quota 2,90, Giorgetti è giusto sforare il 3%. L'editoriale di Giulio Sapelli, Roma e Bruxelles, ecco chi sono gli inadempienti dei trattati dell'Unione Europea. Andiamo a vedere le altre notizie, ora legale o solare, l'Europa vuole abolire il cambio, Juncker dopo un sondaggio spinto dal nord, ciascun paese fissi il suo fuso, i costi per l'Italia vengono analizzati nell'articolo. Si torna sul crollo a Roma, Chiesa di San Giuseppe, emergenza copertura per la pioggia, fuori soprintendenza nel mirino, un altro crollo sotto il Campidoglio. Andiamo sul tempo, l'apertura è proprio sulla notizia dell'ora legale, l'ora illegale, titola il tempo, l'Europa dei cavigli e delle leggi inutili annulla il passaggio da ora solare a legale, ma il dossier dell'Unione Europea è taroccato, poi la marcia indietro, ogni paese farà come vuole. A centro pagina, un eroe per caso, agente aggredito da tre immigrati, ecco come l'hanno ridotto, lo vedete nella fotografia. Andiamo su Libero, le signore premiano il vice premier, le donne preferiscono Salvini, la raccolta firme di Libero supera quota 20.000, boom di sottoscrizioni femminili per il ministro, la sinistra lo accusa di sessismo, ma dalla sicurezza ai profughi, dalle pensioni alla famiglia, Matteo fa una politica tra virgolette rosa. Intanto Giorgetti dice la Lega può chiudere per colpa dei PM, ma c'è un piano B. L'economia traballa, sui conti pubblici possono saltare Di Maio e il governo, scrive Vittorio Feltri. Poi andiamo a vedere a centro pagina, ossessionato da allora legale, c'è l'attacco a Juncker, Juncker trova le soluzioni nel fondo della bottiglia. Andiamo sulla verità, il memoriale Viganò in apertura 48 seminaristi contro il cardinale. I futuri sacerdoti onduregni scrivono una lettera in cui denunciano scandali sessuali tra i preti. Il loro vescovo Oscar Maradiaga non risponde, interrogato da un cronista, gli dà del sicario. E poi la Lega è finita, ecco il piano B tra congresso e nuovo partito con la foto perplessa del sottosegretario Giorgetti. Andiamo a vedere il secolo d'Italia, titolo di apertura con la foto del governatore della Liguria, Toti, subito al lavoro per demolire il ponte, ciò che resta del ponte Morandi. In primo piano PD litiga ormai su tutto, stavolta tocca a Macron le tre carte e i clandestini quanti danni della sinistra e poi più crescita, meno spread, Rampelli, Italia si rialzi. Andiamo sul mattino di Napoli per vedere anche qui il titolo di apertura Italia, previsioni negative per quanto riguarda l'outlook sul nostro debito, Fitch conferma il rating, ma vede nero, piani del governo non coerenti con il debito, l'economia rallenta, lo spread torna a salire a quota 290, Giorgetti, giusto sforare il 3%. Andiamo a vedere anche il punto di Bruno Vespa sul governo, in questo caso conte il pit stop per non sbandare alla prima curva. Andiamo a Napoli ora, il questore, leggi più severe contro gli abusivi, la città in mano ai parcheggiatori, multe d'aspo non sono più sufficienti, adesso deve intervenire il Parlamento, questa è l'opinione del questore di Napoli, De Jesu. Andiamo a vedere anche i quotidiani sportivi nazionali, la Gazzetta dello Sport con un numero speciale sul Gran Premio d'Italia, Marea Rossa, il titolo Fettel velocissimo, la Ferrari fa sognare Monza, Hamilton insegue, Gran Premio d'Italia oggi alle 15, la caccia alla Pol, chiaramente la potrete seguire sia sulla Rai che su Sky e TV8. Poi c'è il Milan con la gara disputata ieri sera a San Siro, Rombo Milan, Higuain illumina Lampo Cutrone, Roma K.O. al 95esimo, segna che si pareggia Fazio, poi irrompe la supercoppia Cutrone-Higuain con il Milan che ottiene i primi tre punti del campionato. Sul Corriere dello Sport il titolo di apertura di Abolic, la Roma cade all'ultimo secondo, decide Patrick Cutrone, prima vittoria del Milan, Fazio risponde al gol di Chessi, annullate con il Val sia le reti di Higuain che di Nzonzi che sbaglia nel finale. Rabbia di Francesco, regaliamo sempre un tempo agli altri. Questa l'analisi del tecnico abruzzese della Roma. E poi Lazio e Romarsiglia, Euroleague, la squadra di Inzaghi trova gli ex romanisti Garzia e Strootman, oltre all'Eintracht e piange Mario Facco, Olimpiakos e Betis Siviglia nel gruppo del Milan. Si parte il 20 di settembre con l'Europa League. Di spalla in campo a Parma alle 20.30 la Juve, fuori di bala c'è Mandzukic, Allegri ripresenta la Juve con CR7 e il bomber croato. Ancora Out Paolo, una partita per lo Scudetto. E poi alle 18 in campo anche l'Inter, scopriamo l'Inter di El Ninja con la partita di Bologna in cui la squadra di Spalletti cercherà la prima vittoria. Poi Mazzarri si libera di Gli Aic e Niang per quanto riguarda il Torino. Palermo, pari e tanti brividi nell'anticipo di Serie B e poi la Formula 1 a Monza. Seb il nostro Ronaldo. Andiamo a vedere anche tutto sport e chiudiamo questa carrellata sulle prime pagine. Pogba vuole CR7. L'asso dello United ha rotto con Mourinho e punta a raggiungere Ronaldo a gennaio. Per le nuove regole potrà giocare con i bianconeri in Champions anche dopo averli affrontati. Alle 20.30 intanto Parma, Juve e Sudazon e si riapre uno scenario clamoroso come detto quello di Pogba. Andiamo a vedere anche il titolo sul Milan. Cutrone, urlo Milan al 95esimo. Higuain esalta San Siro. Splendita vittoria contro la Roma per 2-1. Il VAR annulla due gol. Andiamo a vedere il taglio basso. C'è Nangolan per rialzare l'Inter e poi Gli Aic salute il Toro. Iago, Gallo e Zazza a voi. Verdi con Insigne e un Napoli Fantasia. Ancora Caccia Mbappé ne rimangono 60. I Golden Boy del 2018. Camilleri, Vettel e il nostro CR7 per quanto riguarda la Formula 1 e poi mamma Pantani. Io non mi arrendo. L'intervista esclusiva alla mamma del ciclista scomparso molti anni fa, lo ricorderete, dopo un brutto caso, una brutta storia di doping, una scomparsa quella di Pantani ancora avvolta nel mistero. Noi adesso ci fermiamo per il break pubblicitario. Andiamo prima però a vedere le previsioni del tempo per le prossime ore con i nostri esperti. Poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte della nostra rassegna stampa. Torniamo ai giornali abruzzesi. Ripartiamo dalla pagina di primo piano del centro in cui c'è il cambio a vertice della legione carabiniere Abruzzo e Molise. Lascia un abruzzo che sa difendersi. Queste le parole del generale Sirimarco. Dopo tre anni a capo della legione, come detto, va a Roma. Il suo saluto, questa terra è ancora sana. È una regione affrancata dalla presenza della criminalità perché ha un tessuto sociale importante che si ribella a ogni forma di sopruso. Alla cerimonia ha partecipato anche il generale di corpo d'armata Vittorio Tomasone. Andiamo a vedere proprio la cerimonia nel servizio di Paolo Renzetti. Cambio al vertice del comando legione carabinieri Abruzzo e Molise di Chieti. Questa mattina presso la caserma Pasquale Infelisi, alla presenza del generale di corpo d'armata Vittorio Tomasone, comandante interregionale carabinieri Ogaden di Napoli, il generale di brigata Carlo Cerrina ha assunto il comando della legione carabiniera Abruzzo e Molise, subentrando al generale di brigata Michele Sirimarco, destinato a ricoprire il prestigioso incarico di comandante della legione allievi carabinieri di Roma. La carriera del generale Cerrina, 55 anni, nato a Pieve di Cadore in provincia di Belluno, è iniziata nel 79 la scuola militare Nunziatella di Napoli, promosso al grado di capitano prestato a lungo servizio in Sicilia al comando della compagnia dei carabinieri di Giarre, dal settembre dell'89 al novembre del 91 e successivamente da febbraio 93 a giugno 97 presso il centro operativo della direzione antimafia di Catania. Da aprile 98 a luglio 99 ha poi frequentato il primo corso superiore di Stato Maggiore Interforze, conseguendo il titolo che abilita all'esercizio delle più alte funzioni dirigenziali. Impegnato anche all'estero, il generale Cerrina ha ricoperto presso il comando nato di Bruxelles dal 2005 al 2008 il prestigioso incarico di addetto militare aggiunto per i comitati politico-militari sulla lotta al terrorismo e sulle armi di distruzione di massa. Successivamente rientrato in patria, ha svolto dall'agosto del 2008 al settembre del 2011 presso il comando generale dell'arma di Viale Romania a Roma le funzioni di capo ufficio armamenti ed equipaggiamenti speciali ed in seguito capo ufficio logistico giunto a Parma a fine 2011 ha diretto il comando provinciale dell'arma della città Ducale fino al 2014 per poi fare ritorno nella capitale e assumere l'incarico di capo di Stato Maggiore del Comando Scuole dell'Arma dei Carabinieri dal giugno 2015 ad ottobre 2016. Promosso al grado di generale di brigata nell'ottobre 2016 è diventato comandante della prima brigata mobile dei Carabinieri. L'abbiamo già visto nella prima parte della nostra rassegna stampa il servizio che riguarda proprio la sicurezza di A24 ed A25 sul centro. Ritroviamo l'articolo, i viadotti non sono controllati da anni, ecco il documento con cui il Ministero ammette la verità, niente ispezioni perché manca il personale che deve farle. L'atto che viene pubblicato è stato svelato da De Santis, Lanci e Giambuzzi, finirà a nove procure alla Regione e sul tavolo del Ministero delle Infrastrutture. Interviene anche Vacca Toninelli per la prima volta reso noti i documenti per le concessioni segnalando un punto di rottura con i governi precedenti. La replica di Strada dei Parchi, lottiamo da mesi per fare i lavori, questa è la reazione alla lettera del MIT. Stessa notizia che troviamo anche nella pagina Abruzzo del messaggero, i timori per i ponti, autostrade, il Ministero ha degrado non verificato, non possiamo effettuare i controlli per mancanza di personale. La risposta del gruppo Toto, non ci sono rischi ma soltanto in assenza di terremoti. Notizia che troviamo anche sulla pagina Abruzzo della città, eccola qui, Strada dei Parchi, verifiche impossibili danni, il Ministero dei Trasporti non ha fondi per svolgere il suo dovere sul concessionario. La resa dello Stato nelle comunicazioni tra ambientalisti e MIT. Nel taglio basso salta l'accordo per la zona economica speciale fra Abruzzo e Molise, Molise che è aderito a quella pugliese per il centrodestra e l'ennesima presa in giro della giunta d'Alfonso. Andiamo a vedere nella pagina Abruzzo proprio una notizia che riguarda l'agricoltura e gli aiuti a chi sceglie l'agricoltura, fondi per 116 piccole aziende abruzzesi, la regione pubblica, la graduatoria, accolte tutte le domande, a parte il nuovo bando per i danni da sisma e neve. Poi nel taglio basso caccia WWF contro la preapertura, ondata di ricorsi al TAR anche l'Abruzzo tra le 14 regioni da cartellino rosso. E poi si torna sulla polemica come detto delle ZES, l'Abruzzo perde l'alleato per la ZES e tutto da rifare, il Molise ha chiesto di essere inserito nella zona economica speciale pugliese, forse Italia attacca l'ennesimo fallimento di questo centrosinistra. Andiamo a vedere insieme il servizio. Perdiamo tantissimo perché è un'opportunità che veniva data alle regioni del sud e quindi l'Abruzzo pur non avendo alcune caratteristiche poteva accedere, però si faceva una ZES interregionale insieme al Molise. Per un anno e mezzo hanno girato, questo governo regionale ha girato l'Abruzzo, il territorio soprattutto sud della provincia di Chieti, per dire che ci sarebbe arrivata la ZES insieme con il Molise. Finalmente il 7 agosto arriva questa delibera che viene pubblicata qualche giorno fa. Io prendo contatto con il Molise per capire bene come sarebbero mosse Abruzzo e Molise, mi dicono dal Molise che 5 giorni prima, cioè il 2 agosto con la delibera 395, loro hanno deciso di andare con la Puglia perché dall'Abruzzo non c'erano stati segnali di interesse e di attivazione, di una gravità enorme. A ciò aggiungiamo che il 28 agosto, cioè 26 giorni dopo la delibera del Molise, l'attuale Presidente facendo funzioni, il Vice Presidente Lolli, incontra Convindustria che oramai da mesi sollecita l'attivazione di questa zona che porta sviluppo, che porta benessere, che porta agevolazioni fiscali, che porta sgravi, che porta tante altre cose e il Presidente assicura che si sarebbe attivato con il Molise. Pagano, è possibile recuperare il tempo perduto o meglio ancora è possibile trovare un accordo con Molise e Puglia? Io credo che quello che non è stato fatto evidentemente fino ad oggi, cioè delle sane politiche di relazione istituzionale con le regioni vicine, in particolare quelle che potevano essere coinvolte in questa straordinaria opportunità che sono appunto le ZES, possa essere fatta oggi. La delibera della regione Molise che aderisce ad un progetto comune con la regione Puglia è soltanto di pochi giorni fa. Noi pensiamo che si possano creare le condizioni per recuperare quanto di sbagliato è stato fatto. Io personalmente mi applicherò per cercare di recuperare gli eredicomessi. Io esprimo forte preoccupazione per questa mancata chance e vorrei davvero fare un appello a tutti gli industriali abruzzesi, in particolare a quelli del mio territorio, affinché rispondano con una scosta di orgoglio e di dignità rispetto a questa mancata attivazione da parte della regione, perché per noi significa perdere una chance importantissima in un momento in cui avremo bisogno in realtà di molti più sostegni di quelli che abbiamo avuto in passato. Andiamo avanti adesso le pagine di Pescara. Il centro apre con scuola e trasporti, autobus per gli studenti, prezzi bloccati e sconti dal biglietto unico agli abbonamenti, tutte le soluzioni per i ragazzi pendolari. E poi lotta all'evasione, impennata di multe contro i trasgressori. Nella pagina successiva alla strada parco, arrivano le luci a LED, il comune rifarà la pista ciclabile. Andiamo avanti, tolleranza zero, lotta agli incassi in nero, bed and breakfast e affitti nel mirino della finanza, 20 denunce tra Pescara e Montesilvano per 200 mila euro evasi, nei guai anche un'agenzia immobiliare che non dichiara 150 mila euro. Notizia che troviamo anche in apertura della pagina di Pescara sul messaggero, vacanze in nero, blitz della finanza, dai controlli delle fiamme gialle, nei BNB e nelle case è emerso un giro di evasione per circa 350 mila euro. Nei guai 20 persone tra privati ed esercenti del settore a Pescara e Montesilvano per situazioni fiscali irregolari. Le azioni degli uomini del Maggiore Topetti ha rivelato mancanza di ricevute di contratti d'affitto. Sempre su questa pagina ancora la cronaca, l'aggressione anziana cade e si ferisce alla stazione per respingere un tentativo di scippo, la donna aveva legato la valigia al polso con un cordoncino ed è stata medicata al pronto soccorso. Poi nel taglio basso controlli a tappeto nel quartiere Fontanelle. Ieri proseguiranno questi controlli speciali che sono iniziati nel quartiere Rancitelli e poi rumori insopportabili, i vigili sequestrano un autolavaggio a Montesilvano. Completiamo la lettura delle pagine di Pescara sul messaggero. Bombe del 43, un dolore che divide, è dovuto intervenire il questore Misiti per mettere ordine sulle due manifestazioni di centro-sinistra e centro-destra in mattinata la visita al Sacrario e al cimiterio di Cole Madonna e la corona da loro deposta dal sindaco al muro della stazione. Fimiani, la doppia cerimonia è un errore nei fatti. Il presidente onorario dell'Ampi rivendica e difende la paternità della iniziativa. Scendiamo, lavori sprint nelle scuole, Cuzzi, Plessi più sicuri, l'assessore illustra gli interventi in atto alle elementari media e negli asili nido, pronta la palestra di via Rubicone, la primaria Renzetti, la novità del progetto innovativo senza zaino approvato dal MIUR. Andiamo a completare anche le pagine di Pescara sul quotidiano Il Centro. Gli imprenditori vincono la causa contro le banche. Dopo sei anni il Tribunale mette la parola fine all'odissea di due pescaresi e a zero il debito con gli istituti di credito, esulta l'associazione SOS Utenti. Poi la sfida tra le marinerie e la regata dei Gonfaloni, oggi e domani al Molo Sud, la competizione tra Adriatico e Terreno, in ricordo di un componente della marineria Verzulli. Poi nelle pagine di Montesilvano, blitz in via Verrotti, inquinamento chiuso, un autolavaggio, rumori a tutte le ore, refluino smaltiti, umidità all'esposto dei residenti, porta al sequestro preventivo dell'attività. Nel Taglio Basso, Villa Falini ospiterà fino a 120 anziani. Il progetto dell'amministrazione Maranno resta in attesa di ricevere il parere del genio civile. E poi la scuola delle suore rischia la chiusura alla Cilvescovo in città, a città Sant'Angelo. A mezzogiorno si decide per il futuro dello storico istituto per l'infanzia di Corso Umberto. Nel Taglio Basso, sempre a città Sant'Angelo, alzano degrado e proteste. I residenti lamentano l'assenza di interventi da parte dell'Ater. Andiamo avanti nella pagina che invece riguarda Francavilla e l'area metropolitana. Scuole e asili pronti a ospitare la carica dei 2.500 studenti. Quasi tutti terminati gli interventi sugli edifici. Palestra rinnovata all'alento, ristrutturata un'ala dell'Istituto Masci. Andiamo nel Taglio Basso, servizio civile. Il Comune cerca 9 giovani qualificati a Francavilla. E poi a San Giovanni il Sindaco Marinucci annuncia in Consiglio che non si candiderà alle elezioni regionali. Pagina successiva, raccolta differenziata Popolesi Record, 81,8%. La città delle sorgenti del Pescara, primo comune della provincia per i rifiuti. Soddisfatto il Sindaco Galli, ora più controlli contro le discariche abusive. Nel Taglio Alto, poste ripristinato il post a Turri Valignani. E poi appenne il raduno degli alpini. Ecco le strade chiuse per la sfilata. Andiamo ad aprire adesso le pagine di Chieti. Restando al quotidiano il centro. Niente soldi per la sicurezza. Consorzio travolto dai debiti. L'ultima stangata è di Equitalia. La zona industriale, 412 mila euro di cartelle non pagate dal 2000. Ips e Inail, via alle rate fino al 2028. Gli unici fondi usati per saldare gli arretrati restano senza lavori viadotti a rischio sull'asse attrezzato. E oggi il Sindaco, in una conferenza stampa, svela l'esito dei primi controlli sui viadotti. Nel Taglio Basso, gli speleologi si calano tra i reperti. Partono le ispezioni dei locali sotterranei del 600 trovati in piazza San Giustino. Andiamo avanti. Vasto, tangenti sul caro estinto. Tornano al cimitero e scatta l'arresto bis. I necrofori erano andati al Camposanto. Hanno incontrato alcune persone. Ora sono ai domiciliari per inquinamento delle prove. Misure cautelari per Lategano e Recinelli. Il 23 di agosto scorso avevano ottenuto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Prima di passare alla pagina di Teramo, andiamo a vedere insieme le pagine di Chieti sul messaggero. Scuole, Rivoluzione Mense, addio al vecchio blocchetto, una piattaforma online per gestire i pagamenti, stop ai buoni cartacei. Ogni alunno avrà un borsellino elettronico, tutte le operazioni su PC e smartphone. Con la proposta di teatro e servizio, ora il Comune dovrà prendere una decisione definitiva. Arriva il generale Cerrina. Entusiasmo e dedizione per quanto riguarda i carabinieri. E poi Tari. Sentenza ribaltata. Torna in vigore il piano delle tariffe. Il Consiglio di Stato superiore all'interesse del Comune a riscuotere. Poi andiamo a Lanciano. Nuovi crolli, adesso è emergenza. Sprofonda via Corsea, maxibuca profonda 2 metri, larga 8. La strada si era già allagata lo scorso 22 di giugno. Al via le ispezioni. La città è nel caos. L'assessore dice che sono problematiche annose. Verna, il vice sindaco, chiederemo fondi al governo per le criticità idrauliche. Possiamo andare a vedere anche questo servizio. Una parete in mattoni dell'antica Fogna è crollata sotto via Corsea a Lanciano. Questo è il primo dato che emerge dallo scavo aperto dopo la chiusura d'urgenza della strada e seguita 24 ore prima dal settore lavori pubblici del Comune. A lanciare l'allarme sulla pericolosità della situazione erano stati gli operai della Sasi impegnati a riparare una condotta fognaria nella parallela via Umberto. Facendo le prove di carico nel chiusino di via Corsea si sono accorti che si era creato un vuoto sotto il pavimento stradale. Via Corsea torna alla ribalta delle crona che ogni qualvolta si abbatte un forte temporale in città. Recentemente è accaduto il 22 giugno e il 6 agosto scorsi quando l'importante arteria del quartiere storico Borgo si allagò come un fiume in piena. Fino a superare il metro di altezza nel punto più basso poco prima dell'innesto su Piazza Garibaldi. Non si conosce ancora l'entità del danno sotterraneo. A vista d'occhio si presume una voragine di quasi due metri di profondità per circa otto di lunghezza. Per avere contezza della situazione lo scavo riprenderà dalla griglia di ispezione alla fine della strada nei pressi del semaforo. A fine giornata la buca circoscritta col nastro di cantiere è stata coperta con alcune tavole. Come percorso Trento e Trieste anche questo non sarà un lavoro breve, precisa l'assessore ai lavori pubblici Giacinto Verna. Sono problematiche che derivano da decenni precedenti, ha detto il vicesindaco. Sicuramente oggi si conferma quanto il sottosuolo della città sia fragile e quanto l'incuria dell'uomo abbia inciso. Nubi fragi a parte, i tecnici verificheranno la situazione e in seguito sarà deciso il da farsi. La priorità, sicura Verna, è la messa in sicurezza dei luoghi e l'incolumità dei lancianesi. Le pagine di Teramo ora. Partiamo dal centro. Giulia Nova, attacco alla Lega, Raida al gazebo ripreso dalle telecamere. La Digos sta esaminando i video per identificare il gruppo di giovani che ha assaltato il banchetto in Piazza del Mare. Poi le reazioni da Fratelli d'Italia al PD. Tutti condannano l'episodio. Andiamo avanti sempre sul centro. Nella pagina successiva Diegidio resto disponibile a fare gli interventi al Mazzini. Il radiologo da un mese è primario a Pescara. La ASL per trattare l'ictus si è convenzionata con l'Aquila. Fiero è di essere Teramano ma vogliono lasciare Teramo ospedale di primo livello e sono andato via. Poi ancora in camping. Dieci giorni e non paga. Ha denunciato. Alba, un 35enne di Montorio, si è dileguato lasciando in sospeso un conto da 700 euro. Adesso andiamo ad aprire le pagine di Teramo sul messaggero. Più violenza sulle donne per colpa della ludopatia. Questo il report del centro La Fenice. Ha registrato un'impennata di oltre il 10%. In maggior parte sono italiane. I problemi legati al vizio del gioco che colpisce i mariti. Il Teramano Marco Cassini ha girato un film sull'argomento presentato in provincia. Possiamo andare a vedere il servizio. Un posto sicuro. E' questo il tema e il messaggio della campagna di comunicazione sociale realizzata dalla provincia di Teramo in collaborazione con il regista teramano Marco Cassini. Il posto sicuro è certamente il centro antiviolenza La Fenice, così come lo è Casa Maia. Ma il messaggio forte è quello delle istituzioni a fianco delle donne maltrattate. Quindi una rete sicura a cui affidarsi per rinascere. Qual è il messaggio? Che il buio c'è. Il buio è una roba brutta. Però se ne può uscire fuori. Con discernimento, con grande forza d'animo e soprattutto con grande coraggio. C'è una parte in particolare in cui vediamo la nostra protagonista davvero a terra, nel suo momento peggiore. E tu in quel momento da spettatore pensi che non potrà mai rialzarsi. E invece no. Poi c'è quel pezzettino di luce cui lei si aggrappa e alla fine riesce a risalire. Perché è così importante questo progetto? È importante perché penso che la diffusione capillare della conoscenza del centro sia fondamentale per quanto riguarda il nostro territorio e non solo. Ci eravamo accorti che da questo punto di vista c'era una piccola criticità. E quindi dopo aver iniziato una ristrutturazione totale del centro, un rilancio del centro, da gennaio 2017, abbiamo pensato che questo era veramente il momento giusto di fare una campagna di comunicazione massiva. Il video sarà messo a disposizione di tutti i comuni che ne faranno richiesta per diffonderlo attraverso i loro strumenti di informazione e a tutti i soggetti della rete antiviolenza affinché venga diffuso attraverso i rispettivi strumenti di comunicazione. La campagna è stata realizzata grazie al contributo finanziario della Fondazione Tercas. Questo ultimo anno cosa è cambiato? Allora innanzitutto ecco quello che vediamo oggi è la presentazione di una campagna di comunicazione sociale e qui abbiamo tenuto molto perché portando l'esperienza nelle scuole soprattutto e altrove ci siamo resi conto che l'informazione anche della presenza stessa del centro antiviolenza nel nostro territorio era un po' carente. Siamo consapevoli però che la comunicazione è fondamentale, è una leva, ma non è nulla se dietro non c'è competenza, preparazione e una rete che funzioni. Andiamo avanti con le notizie dal Terramano. Nella pagina della provincia del messaggero tolta la figlia Simone Santoleri. L'ex compagna chiede ed ottiene dalla prefettura la revoca della patria potestà. Lui commenta e dice lo sempre amata. Intanto la tragica fine del pensionato di Mosciano investito, scagionati dirigente comunale e responsabile della ERA. E qui vedete proprio la foto dell'investimento di De Benedictis. Andiamo sulla città, altre notizie dal Terramano a Terramo capoluogo. Si apre la carica dei cento cellos, i violoncellisti di Sollima e Melozzi oggi in città per prove, flash mob e concerto al Duomo. Andiamo avanti con corsi sospesi. Il Movimento 5 Stelle chiede chiarezza alla ASL. La consigliera regionale Sara Marcozzi ha depositato una richiesta di accesso agli atti delle selezioni. Ancora avanti. Febbre del Nilo, i ZS caporale in prima linea. Gazze, cornacche, asini e cavalli sono i principali vettori dell'infezione trasmessa all'uomo dalle zanzare. Annegò nel fiume ma fece tutto da solo. Provincia scagionata per la morte del 24enne cinese finito con l'auto nel Tordino. Gli accertamenti. Zenger ubriaco e viaggiava a forte velocità al momento di finire fuoristrada lungo la strada provinciale 25 a Casemolino. Andiamo ancora avanti. Speranze per la maxi bolletta del Ruzzo. Il condominio di Viva Fedele De Paulis spera in una perdita interna per evitare il salasso da 25 mila euro. Nella pagina della provincia ne è pure iniziato il ponte sul Vomano. Il consigliere regionale Leandro Bracco bacchetta la provincia per il ritardo di tre mesi nella costruzione. Vagonate di chiacchiere il 9 marzo scorso si disse che il ponte doveva essere completato. In 180 giorni, tre mesi dopo la scadenza, non c'è neanche il cantiere tra Castellato e Cellino Attanasio. Arrestato il capo della banda degli assalti a Bar e Saleslot sarebbe la mente di almeno 35 colpi fra Abruzzo e Marche. Poi ancora, inchiesta aperta sul blitz al gazebo leghista. Abbiamo visto anche in precedenza quanto accaduto a Giulianova. A Silvi, semafori inutili per il traffico congestionato saranno anche intelligenti e capaci di multare, ma le code restano soprattutto durante l'estate. A Roseto, il caso politico. Urbini, selezione annullata. La responsabilità è comunque del sindaco. Il presidente di Roseto al centro ricorda onori ed oneri dell'amministratore. Sull'errore c'è la sua firma. Andiamo adesso nelle pagine dell'Aquila sul quotidiano Il Centro. Domani la maratona musicale nel capoluogo. Jazz nelle piazze sarà evento fisso. Il direttore artistico Fresu, ora la città è in grado di gestirlo, con involti circa 600 musicisti, oltre 60 concerti in luoghi rinati. E poi nel taglio basso, malora in auto, muore in piazza Castello. Ad Avezzano l'anziano era la guida del mezzo. I testimoni l'hanno visto sbandare e poi accasciarsi. Prima di passare allo sport, le pagine dell'Aquila anche sul messaggero. L'Aquila capitale del jazz, il festival sarà permanente. Domani la maratona per le terre del sisma, abbiamo visto anche in precedenza. E poi gli immobili, caserme, la delibera torna in discussione. Nel taglio basso, scuole, gli studenti del Cotugno divisi in cinque sedi. Nella pagina successiva è la 724esima edizione della perdonanza. Ora la perdonanza si apra al mondo. Questo è il resoconto che fa il giornale della perdonanza celestiniana. Nella pagina successiva, quella di Avezzano Sulmona, Ponte di Genova, l'idea di Maccallini, il progetto innovativo presentato dall'architetto Avezzanese. Non serve un cavalcavia ma un tunnel, così si risparmia, si eliminerebbe pure l'inquinamento e potremmo salvare le case degli sfollati e giù critiche anche a Renzo Piano. Poi andiamo a vedere cosa è accaduto nel Consiglio Comunale di Sulmona. Il sindaco Casini serve responsabilità di consiglio e maggioranza, così ha annunciato il ritiro delle dimissioni. Proseguiamo sul messaggero, andiamo ad aprire la pagina dell'Abruzzo Sport. Si parte dalla B e dal Pescara. Pescara ha tanti ex in cerca di rivincita. Pilonne, Fiorillo, protagonisti con il Livorno, Macine in dubbio, Crecco è favorito in mediana, la strada domenica di Bruno, marito della figlia di Sebastiani. Il doppio ex Anania, numero uno in Zemallandia, gara da tripla. Questo è il commento del portiere. E poi nel taglio basso troviamo invece il Futsal a cui sapone. Oggi i nomi delle avversarie di Champions. Coach Tino Perez, il nostro obiettivo è arrivare all'Elite Round. Vedo entusiasmo. Nella pagina successiva il Teramo, acquistati Pacini e Proietti. Doppio colpo per il club del patron Campitelli. Il primo è il portiere del Novara e il secondo dal Pescara. Restano tutti gli altri, compreso Amadio, Bacio Terracino. Dice, ho sensazioni positive per questa stagione. Di spalla il rugby, Avezzano, Cerasoli, allenatore in campo. Colpo marsicano, presa l'ex terza linea dell'Aquila Club. Scendiamo nei dilettanti. Lanciano vuol tornare nel calcio che conta. Mister del Grosso confermato. Più un paio di rinforzi veterani che non guastano. E poi per il basket, Busciati, sarò il jolly che manca a Roseto. Sul centro, torniamo in Serie B. Domani c'è la partita con il Livorno, Pescara, Macin, K.O. Melegoni è pronto del Grosso, Scalpita. Il guineiano debilitato da una tonsillite, novità in mediana. In difesa può debuttare il tessino giuliese, Mancuso, titolare. E poi, Lucarelli, il pensiero, andrà a Morosini. Il tecnico amaranto, la tragedia di Permario. È un ricordo indelebile. Il Delfino, la sorpresa della B. Nel taglio basso, Forte resta in Biancazzurro. Iamgà, allo Chateauroux, Selasi e del Fano. Per quanto riguarda ancora la Serie B, l'anticipo con il pari al Barbera. La Cremonese sfiora il colpo, Mazzotta salva il Parermo. Partita finita 2-2. Nella pagina successiva, la Serie C, mercato chiuso. Il Teramo si rinforza con Proietti e Pacinia. Ma Dio non si muove. Arriva il mediano del Pescara. Il portiere dal Novara. Vitale potrebbe essere tesserato nei prossimi giorni. E poi ancora a Figgici, Abruzzo, L'Aquila. C'è posto solo in prima. Oggi sarà resa nota la risposta alla diffida del club. Ogni decisione straordinaria aspetta a Fabricini. Andiamo ancora avanti. In eccellenza, domani al Via. Il 25enne del Zotti e del Sambuceto. Il tecnico più giovane. Alba Adriatica, Cupello e Renato Curiangolana. Le squadre con l'età più bassa. Matricole e stranieri. All'assalto dei record. Giovani figli d'arte e curiosità. In un torneo giunto alla ventottesima edizione. Ora il calcio a 5. Muriglio e Lacque Sapone. Un amore lungo 12 anni. I campioni d'Italia. Arrivato a 17 anni. Il capitano dell'Acque Sapone è pronto per la Champions. Sono entrato nella storia del club. Ora voglio arrivare lontano in Europa. Andiamo nel taglio basso. Svolte di Popoli. Torna la vecchia. Iscrizione ancora aperta. Volontari al lavoro per sistemare il circuito che vedrà le auto protagoniste dal 7 al 9 di settembre. E poi il tennis toque big all'open Lazzaroni. La quinta edizione del torneo di Chieti. Andiamo anche sulla città per vedere la pagina di Sport. Teramo arriva a Proietti. Con lui anche Pacini. Questo è il titolo. Doppio colpo del DS Federico nelle ultime ore di mercato. Il portiere e il mediano in prestito. Due cessioni mancate. Il difensore Ferretti e il centrocampista Madio per il momento restano nella rosa del Teramo. Domani amichevole contro il San Nicolò Notaresco per mettere minuti nelle gambe in vista del campionato. Andiamo nel taglio basso. Teramo a spicchi. Questi tutti gli impegni del precampionato. La prima gara al Palacqua Viva di Teramo contro il Nova Campli. Sabato 29 settembre si chiude la Preseason contro il Pedaso. E questa era anche l'ultima notizia della nostra rassegna stampa. Io vi ringrazio per averci seguito. L'appuntamento con Mattino 6 è per lunedì alle ore 8. Mentre la nostra informazione torna oggi con le tre edizioni del telegiornale alle 14, alle 19 e alle 23. Grazie per averci seguito ancora una volta e buona giornata. Grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito.